La vicenda Almaviva non si sblocca, il destino dei 2.511 lavoratori è ancora incerto. Il governatore ha tentato una soluzione, un lodo da prendere o lasciare. Il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, con la viceministra Teresa Bellanova ha incontrato i rappresentanti di Almaviva Contact, la società dei call center e i sindacati di categoria, dando loro la disponibilità a scrivere un lodo non negoziabile al fine di comporre l'avvertenza che le parti stesse non sono finora riuscite a risolvere. Almaviva ha risposto con un sì condizionato con cui accoglie la disponibilità del governo e ne apprezza il significato, ma riservando agli amministratori dell'azienda la valutazione dei contenuti del lodo, tenendo conto dell'esigenza imprescindibile di garantire la continuità economica aziendale. Dai sindacati arriva una quasi bocciatura, la proposta viene ritenuta irricevibile perché a scatola chiusa. Al contrario, verrebbe presa in considerazione se fosse possibile discuterne o perlomeno sottoporla al giudizio dei lavoratori. Anche noi abbiamo dato la nostra disponibilità, ma prima di esprimere un parere volevamo consultare i lavoratori sui contenuti, ha spiegato Giorgio Serao, segretario nazionale della Fistel CISL. In definitiva si tratta di due no, perché l'obiettivo della proposta del Ministero, data l'estrema inconciliabilità delle posizioni delle parti, era quello di stabilire le condizioni ponendo termine alla discussione che va avanti da mesi e che si è rivelata infruttuosa. Intanto domani è prevista la conclusione della procedura di messa in mobilità con la possibilità di far partire le lettere di licenziamento per gli 843 lavoratori di Napoli e per i 1668 di Roma.